Buongiorno a un nuovo appuntamento con l'informazione flash di TG2000. Bandiere italiana ed europea a mezz'asta. Oggi sugli edifici pubblici degli organi costituzionali e dei ministeri, in segno di lutto per la scomparsa dell'ambasciatore d'Italia nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, e del carabiniere Vittorio Iacovacci, rimasti uccisi in un attentato a goma. Secondo un comunicato della presidenza congolese, sono stati i rapitori a uccidere l'ambasciatore e il carabiniere italiano, sparando contro di loro a bruciapelo. Oggi il premier Draghi riceverà un emissario del presidente congolese. Si attesta 5,6% il tasso di positività in Italia, con 9.630 nuovi positivi in 24 ore su oltre 170.000 tamponi effettuati, 274 morti. Intanto si fa strada una nuova ipotesi per la produzione dei vaccini anti-Covid anche in Italia. Ancora basso nel nostro paese l'utilizzo del farmaco di AstraZeneca. Su oltre 542.000 dosi arrivate entro il 13 febbraio, ne sono state impiegate poco più di 10.000, ossia il 20%. Prorogato dal Consiglio dei Ministri fino al 27 marzo il divieto e il rispostamento fra regioni. Le visite nelle case private restano limitate a due adulti, ma sono vietate in zona rossa. La lotta al Covid è stata al centro della telefonata in vista del Consiglio europeo fra il presidente Draghi e la cancelliera Merkel. Nel Regno Unito il Premier Johnson ha presentato un piano di uscita dall'emergenza sanitaria suddiviso in quattro fasi. Si comincia con la riapertura delle scuole l'8 marzo fino a un graduale allentamento delle restrizioni. La minaccia Covid resta significativa, ha detto il presidente, nonostante i successi della campagna di vaccinazione. Già 18 milioni di britannici hanno ricevuto la prima dose. Migranti nascosti fra rifiuti, vetri rotti e residui bruciati provenienti da un inceneritore. È successo nel porto di Meliglia. Gli uomini sono stati trovati dalla Guardia Civil dentro un container nel porto. Uno dei migranti sembrava privo di vita, ma poi ha ripreso conoscenza. Tutti sono stati trasferiti in ospedale. Dopo ore di interrogatorio è stato fermato Doriano Saveri, compagno di Rossella Placati. La donna trovata morta ieri mattina nella casa dove viveva Borgo San Giovanni di Bondeno, nel Ferrarese. La vittima è morta per una ferita alla testa causata da un corpo contundente. Il convivente che ha fornito una versione contraddittoria agli inquirenti è in carcere con l'accusa di omicidio. Nuova eruzione dell'Etna accompagnata da emissione di cenere. Il fenomeno si è verificato ancora una volta nella notte nel cratere di sud-est con lancio di materiali fino a un'altezza di circa 300 metri. Un anno fa a Bari si concludeva l'incontro Mediterraneo-Frontiera di Pace. In quest'anno, ha detto il presidente della CEI Bassetti, si è alimentato lo spirito di fraternità e condivisione maturati durante l'incontro. È essenziale proseguire in questo percorso di comunione, ha ricordato il cardinale presidente della CEI, nell'orizzonte indicato da Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti. Era la nostra ultima notizia, vi lascio alla messa. Vi ricordo che l'informazione di TG2000 torna a mezzogiorno più tardi. Grazie a tutti.